Per lì, che è attimo, perché un grande botto, un vento da sotto, al naso ma arriva. Che gli era successo, Pasqua? Pensate la cagata sotto, per metter signora, ma lei pulsa ancora, è già giunta l'ora. E vado a prestigio, ma per mi dentro, perché in questo stato mi sento asfussiare, che strunzoso staglio, e la faccio da me, e quando l'ero staglio, si fa le pippe sotto al bagno. Oh, e chi un batte le mani, salviando il culo fino a domani. Giornata un giorno meno. Voi capite, Daniano, niente? Oh, cazzo, cazzo. Lo faccio vedere, ma prima. Eccolo, direi. Questa torta è la torta. Il gusto.